Ciao videomakers e bentornati sul canale. È da un po' che non ci sentiamo, però sto coronavirus, sta pandemia, questo isolamento forzato, sta cambiando un po' i miei ritmi di lavoro e ho avuto bisogno di tempo per rimbastire il tutto. Comunque non è che la mia vita sia cambiata chissà quanto. Io già prima lavoravo molto in studio, lavoravo molto a casa, anche semplicemente dei piccoli product placement, dei pre-roll, queste cose, si possono tranquillamente fare in una situazione di clausura. E mi dispiace invece per tutti quei videomaker che magari lavorano nell'ambito degli eventi e che sono giustamente bloccati. Ormai, arrivati a un mese quasi di reclusione forzata, avranno già smaltito tutto il lavoro di post-produzione, di fotoritoco montaggio, e adesso giustamente staranno pensando cosa faccio. Lo so, lo so, a voi va il mio pensiero, il mio abbraccio, la mia solidarietà più totale, perché capisco, capisco, io sono molto fortunato a lavorare con il web e in questi giorni capisco quanto il videomaker, youtuber e sostanzialmente il producer casalingo sia privilegiato in questo. Comunque, speriamo che passi presto, vi faccio i migliori auguri per tornare in pista meglio di prima e andiamo a parlare di una cosetta un po' più allegra, perché sennò parla il telegiornale del coronavirus, si parla sui social del coronavirus, parlo pure io del coronavirus e qui non parliamo mai di cose belline. A proposito di cose belline, io devo ringraziare Barbaroffa, che è un collega youtuber, che mi ha consigliato questo mini pannellino LED di Aputure, che si chiama Aputure MC. Non sono un grosso fan dei pannellini piccoli piccoli piccoli, cioè ne ho uno, è un po' scadente, beve le batterie in maniera forse nata, però lo tengo nella borsa in caso di necessità. In alcune situazioni, devo dire la verità, un pannellino molto piccolo e abbastanza potente riesce a cambiare un po' le carte in tavola, quando si è proprio con le spalle al muro. Però, a parte questo, non l'ho mai valutato come un ottimo strumento di lavoro, per lo più un sì ce l'ho, sto tranquillo. Questo pannellino di Aputure, invece, già dal prezzo ti fa subito capire che non è un giocattolo, cioè perché un pannellino 140 euro, tu fai oibo, che sta succedendo? Un pannellino LED RGB, che ha delle caratteristiche secondo me fighissime. Partiamo dalle caratteristiche proprio della scocca di questo pannellino. A parte il fatto che le dimensioni sono ridotte, ma veramente ridotte, cioè la superficie sarà poco più grande di una carta di credito, mettiamola così, la cosa bella è che è calamitato. Il retro è calamitato, cioè tu puoi attaccare questo pannellino a qualsiasi superficie metallica che tu abbia intorno, quindi un'automobile, la scocca di un'auto, un frigorifero, un palo della luce, l'asta di un microfono, una lampada, il braccio di una lampada, insomma ti dà già di suo tantissime possibilità per essere piazzato sulla scena. Poi vite, e quindi può essere avvitato tranquillamente a un cavalletto, a un treppiede da tavolo, anche un'asta microfonica debitamente adattata. Insomma, è così leggero ed è così versatile per quanto riguarda il fissaggio che veramente non hai limiti di sorta. È un oggetto meraviglioso secondo me. In più, la confezione contiene una copertura in gomma che serve da diffusore per questo pannellino, il cavetto USB-C che non guasta mai e, dulcis in fondo, un paio di coppie maschio-femmina di velcro adesivo che quindi può essere piazzato in punti specifici. Io, onestamente, andrei a usare il velcro il meno possibile proprio per non andare ad attaccare qualcosa sul pannellino. Però, se noi abbiamo una postazione in cui non abbiamo molto spazio e mi viene da pensare a una postazione da diretta streaming, magari per chi fa YouTube, in cui abbiamo un muro davanti a noi e non abbiamo spazio per andare a illuminare come si deve, o pezzettino di velcro sulla parete, attacchi questo pannellino, lo alimenti magari con l'USB, così non sei preoccupato che finisca la carica e ciao, cioè tu hai una postazione per dirette a spazio zero incollando semplicemente sto pannellino con il velcro e all'occorrenza, siccome è velcrato, lo puoi anche rimuovere. Detto ciò, e parlato della comodità proprio del corpo di questo pannellino, della sua minimalissima forma, del suo minimalissimo design, andiamo a parlare delle caratteristiche a livello di illuminazione. Allora, il pannellino spinge, spinge abbastanza. Vi basti pensare che questa scena viene girata con 640 ISO, un cinquantesimo F1.8 e, nonostante la scena sia abbastanza ben illuminata, il nostro pannellino riesce a colorare tutta la parete là dietro, stando a un metro qui dietro di me. Questo è il pannellino e questa è la scena senza il pannellino. Quindi, anche se non è una luce troppo potente, riesce a fare egregiamente la differenza. In questo caso riesce a conferire alla nostra stanza un bel tono di blu. Però andiamo anche a sperimentare qualche altro tono di colore. Ovviamente ha una ghiera e tutte le caratteristiche luminose del pannellino sono dimmerabili. Stiamo parlando di tonalità di colore, stiamo parlando di intensità della luce, stiamo ovviamente parlando anche di gradazione Kelvin, stiamo parlando di tutte le caratteristiche di questo pannellino. Tutto dimmerabile. Molto bello anche il modo in cui hanno gestito i sottomenù, perché questo pannellino ha tantissime funzioni e quindi ha anche un menu interno. Semplicemente questa ghiera è una ghiera che ti permette di dimmerare in libertà, ma anche di essere schiacciata. Con la pressione prolungata si accede via via alle sottocategorie del menu, con la pressione singola invece si vanno a selezionare quelle che sono le varie opzioni e con la ghiera ci si muove nei menu. È tutto molto intuitivo, devo dire la verità. Oltre a questo tipo di illuminazione, quindi al colore, alla luce RGB, abbiamo anche una luce normalissima sulla quale possiamo andare a interagire con la gradazione Kelvin e poi abbiamo una cosa bellissima, secondo me, ovvero una serie di effetti. Non storcete il naso, perché pure io ho storto un po' il naso. Quando ho visto effetti ho pensato, vabbè, ma che è? Cos'è una tastierina Casio da 50 euro che c'ha le demo delle canzoncine? Che cosa sono gli effetti? In realtà gli effetti possono essere abbastanza salvavita. Ora, ve li do in ordine, secondo me, di rilevanza, dal meno importante a quello più importante. Abbiamo l'effetto Party, che morbidamente passa da un colore all'altro per simulare una reunion lisergica con degli amici di vecchia data. Non so cosa... beh, comunque tanti colori che in maniera morbida fluiscono l'uno nell'altro. Fireworks, ovvero fuochi d'artificio. Questo è già un pochino pochino più utile, perché simula la luce che esplode, poi si attenua lentamente, proprio come la luce dei fuochi d'artificio. Non so in quante situazioni possa tornare utile, però ce l'hanno messa. Luce bianca pulsante. Beh, questa non so in che situazione possa tornare utile, però sicuramente è di bel effetto. Mi piace. Mi piace molto. Paparazzi, ovvero come simulare che sul nostro soggetto stia piovendo una valanga di flash. Ecco, questa è una cosa abbastanza interessante. Mi piace. Può essere utilizzata in circostanze di lavoro reale, di vita reale. Il lampeggio delle volanti della polizia. Polizia americana, penso, perché mi sa che la polizia italiana non c'ha le luci rosse e blu. Però, insomma, può essere divertente per creare un cortometraggio divertente, semplicemente un effetto per uno spot. Ci sta, ci sta. Ha una sua utilità. Il neon difettoso. Ma quanto è bella sta roba, quanto fa horror. Quanto fa, attenzione. Questo è un effetto bellissimo. Veramente bellissimo. TV, ovvero un'impostazione che va a riprodurre quelli che sono gli stacchi di una produzione video. Quindi sia a livello di intensità di colore, sia a livello di temperatura colore. Utilissimo, secondo me. Veramente molto utile. Mi sono trovato tantissime volte negli ultimi anni a realizzare delle scene in cui dovevo simulare questa cosa magari in post-produzione, perché non avevo modo di farlo sul posto, in maniera credibile. Ottimo. E poi fuoco. Oh, questa è davvero una cosa molto utile. Utilissima. Mettere questo pannellino fuori campo simula in maniera molto credibile una torcia, una lampada, un fuoco acceso. Poi in grado di intensità lo decidete voi. Però mi piace molto. Gli effetti, in sostanza, hanno una buona resa. E con un attrezzino così piccolo andiamo a liberarci di una serie di rogne notevoli, perché questi sono effetti, soprattutto quelli più ovviamente utilizzabili, sono effetti che prima o poi ti trovi a dover mettere in campo, facendo anche cortometraggi. Quindi, boh, tanta roba. Tanta roba. Ma questo leddino è già un buon prodotto così com'è, però con questi effetti guadagna quel punto in più. Una cosa sulla quale vorrei descrivervi meglio il prodotto ma non riesco è la sua applicazione. Perché questo pannellino può essere controllato sì dalla ghiera, ma anche da un'applicazione per telefono, che per l'appunto sul mio telefono non riesco a far funzionare. Ho installato l'app, mi sono registrato, ma il pairing con il dispositivo semplicemente non avviene, nonostante io abbia resettato le impostazioni di bluetooth di dispositivo e telefono, niente, non riesco a connettere il dispositivo al telefono. Ora, in questi giorni sto cercando di rintracciare un vecchio smartphone che ho qui in giro per casa, sono sicuro di averlo ancora, lo riporterò in vita sperando che la batteria non sia morta completamente e proverò con quest'altro smartphone a utilizzare il pannellino. Magari lo promuoverò a smartphone delle luci. La cosa interessante è che questi Apochior MC possono anche essere usati come gruppo luci, cioè se compri due pannellini, tre pannellini, quattro pannellini, dall'applicazione puoi gestire tutto come se fosse una console vera e propria e puoi cambiare le luci gestendole come un unico gruppo. Io direi che per essere un piccolo pannellino abbiamo detto tante cose molto interessanti. Vi lascio il link in descrizione, adesso costa sui 140 euro, è stato scontato perché stava a 150 su Amazon. Spero che questo mio video gli abbia fatto venire qualche bella ideuzza e noi ci vediamo alla prossima.